Mi auguro che non siano sempre i soliti 49 milioni che ogni tanto mettono in mezzo e quindi che siano altri aggiuntivi e poi sono probabilmente pochi per completare la bonifica e comunque sono quei soldi che lui si è impegnato a mettere per la bonifica di Bagnoli con la firma del 14 agosto, non solo, ma è un dovere dello Stato essendo Bagnoli un sito di interesse nazionale, quindi non c'è nessuna notizia nuova perché siamo molto in ritardo rispetto agli impegni del Governo, sono soldi che noi ancora non abbiamo visto, quindi sono annunci, siccome sinora il Presidente del Consiglio ha fatto solo annunci, ha cominciato dalla scuola Parini e tutte le altre cose già sapete, io fin quando non vedo arrivare soldi effettivi per le bonifiche non ci credo, io sono disponibile a vederlo quando il Governo vuole perché il dialogo è fondamentale, le istituzioni devono collaborare, però non arriva nessun segnale di cambiamento su Napoli, sul Mezzogiorno e soprattutto su Bagnoli, quindi non c'è in programma nessuna visita, per cui apprendo dalla stampa della visita di Del Rio, quindi evidentemente ha ritenuto di non sentire il Sindaco di Napoli, se ritiene io sto qua tutta la serata, tutta la giornata, tra i vari impegni istituzionali e di strada, ma troverei sicuramente il tempo anche di incontrare lui con molto piacere, ma non si è fatto sentire, quindi evidentemente sono altri tipi di incontri.